Cosa uso per suonare? Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato Sì, lo so, si parla di suonare ma l'argomento è relativo ai DJ lo premetto subito e ne ho già parlato un po' di tempo fa e troviamo il video al link qua Cosa uso per suonare? È stata una richiesta che mi è stata fatta da alcuni degli utenti che seguono il canale perché comunque parlo in generale di musica, di modo di sviluppare un DJ set ma non parlo nello specifico di attrezzatura Beh, la mia risposta da un lato è piuttosto semplice tutto Se si escludono i vinili che non ho mai utilizzato per lavoro ma soltanto per l'ascolto personale e per gusto personale ho usato veramente di tutto e continuo ad usare veramente di tutto questo perché comunque secondo me il DJ deve essere pronto a tutto si può trovare qualsiasi cosa sia nei locali o negli eventi e allora è bene avere una certa dimestichezza poi una volta avuta questa si può scegliere quello che ci piace di più o che magari può essere anche più comodo che è una scelta a non trascurare Faccio scorrere alcune foto e ripercorro un po' la mia storia sono partito con due lettori normalissimi due CDJ100 all'inizio del 2000 anzi, i lettori CD che non si poteva modificare il pitch semplicemente passavo da una traccia all'altra proprio come hanno iniziato i primi DJ negli anni 70 con i vinili che non si potevano modificare la velocità comunque ho usato i CDJ100 e utilizzo ancora me li sono portati dietro anche nello scorso capodanno per una postazione secondaria e quelli ce li ho funzionano sempre e magari che non acquisto un CD è veramente tanto che non mi crea i miei CD lo stesso però comunque sia i CDJ100 funzionano sempre e vanno benissimo anche se sono indicati soprattutto per chi fa cose di un certo tipo o vintage o rock o non li consiglierei soprattutto adesso per chi fa altri tipi di musica comunque la mia console base è composto da due CDJ350 e un mixer il mixer è o l'Alanit Xon92 il mio preferito che però in questo momento è in infermeria allora ho un Pioneer 600 ho avuto anche l'800 però adesso ho questa a disposizione ho avuto la Tractor S8 ho avuto perché anche essa ha avuto qualche problema tecnico e sinceramente non la sto utilizzando più perché la tecnologia degli stem ha avuto un certo stop quindi non è stata implementata o quantomeno non è stata mai sfruttata a dovere e allora prima di spendere soldi in quella direzione sinceramente ci penso un attimo ho due lettori e un mixer con l'utilizzo delle Mp3 su chiavetta anche se ho provato l'X100 della Pioneer che sono sinceramente molto validi e dal momento che il CD non serve veramente più può essere un acquisto interessante ho utilizzato tantissime volte i CDJ2000 come per esempio nella registrazione del videocorso perché comunque me li hanno forniti e sono un'ottima macchina sicuramente poco pratica perché li deve trasportare spesso per questo io preferisco una console più compatta però nulla da dire e anzi è sempre molto comoda per la ricerca dei brani insomma tutte le funzioni avanzate da lì poi tutte le altre marche hanno preso spunto per i loro lettori top di gamma quindi prima di proporre dei modelli alternativi è sempre bene fare riferimento a questi ho utilizzato varie volte la XDJ della Pioneer che è un'ottima evoluzione rispetto alle varie console la Aero era interessante però aveva una sola chiavetta e quindi poteva avere dei problemi la XDJ successiva con due chiavette non funzionava che aveva un sacco di bug quindi poi è stata rapidamente tolta adesso insomma sia la console principale dei Pioneer che quelle più economiche si fa per dire sono sinceramente delle ottime opzioni e poi ho utilizzato vari tipi di controller da quelli Palmer a quelli Serato mi sono trovato a lavorare con dei colleghi o su eventi e in qualche modo dover utilizzare quelli mi ha fatto permettere mi ha fatto sì che potessi prenderne manualità e potessi sfruttarne le potenzialità e la proattricità dell'utilizzare in musica direttamente dal computer non ho avuto ancora il piacere di utilizzare la console Prime della Denon o uno dei prodotti successivi appena presentati ma è qualcosa che vorrei sinceramente dotarmi in vista della prossima stagione perché penso che possa essere un ottimo prodotto soprattutto molto valido e sul pezzo anche per quanto riguarda il software e la possibilità di utilizzare la musica in streaming presto inizieremo a vedere anche degli estratti del corso qui sul canale dove potremo vedere praticamente alcuni esempi di utilizzo della console fammi sapere cosa usi cosa ne pensi dei prodotti qui menzionati e se saresti interessato anche ad approfondire alcuni aspetti tecnici dei tipi di console, lettori, mixer e quant'altro qui su questo canale e continuo nel frattempo a seguirmi su Essere DJ Oggi Ciao Ciao Ciao